Siamo alla terza domenica di Avvento. Il cammino verso il Natale si fa sempre più breve. E il Vangelo che ci accompagnerà in questa terza domenica è tratto dal prologo del Vangelo di Giovanni e ci presenta ancora meglio che la settimana scorsa la figura di Giovanni Battista. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. E questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Chi sei tu? Egli confessò e non negò e confessò. Io non sono il Cristo. Allora gli chiesero. Che cosa dunque? Sei Elia? Rispose, non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose, no. Gli dissero dunque, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, come disse il profeta Esaia. Essi erano stati mandati da parte dei farisei, lo interrogarono e gli dissero, perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il testo del Vangelo che la liturgia ci propone in questa domenica è formato da due brevi dialoghi del Battista, prima con i sacerdoti e i leviti e poi con i farisei. L'Evangelista non ci dice se le risposte che il Battista ha dato hanno soddisfatto la curiosità dei suoi interlocutori. Però non dovremmo aspettarci molto di positivo, visto poi come i farisei e gli scribi accolsero Gesù e come Gesù stesso sperimentò l'incapacità da parte di queste persone di entrare in dialogo, di capire le sue parole, di comprendere il suo annuncio di un Dio di misericordia. Di fatto, essi attaccheranno Gesù costantemente e mostreranno al tempo stesso di non averlo mai veramente né ascoltato né compreso. È il dramma di Gesù, il Signore, il Salvatore, che è venuto tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Questo fatto forse ci dovrebbe aiutare a riflettere. Noi diamo un po' troppo per scontato che nella nostra vita abbiamo accolto Gesù. Forse ci definiamo cristiani con troppa facilità. Pensiamo che, tutto sommato, ascoltiamo ciò che Gesù dice, facciamo ciò che Gesù ci chiede, siamo in pace con Lui. Ma lo facciamo davvero o abbiamo accolto un Gesù che ci siamo ritagliato secondo la mentalità e i nostri gusti? L'Avvento è un tempo adatto ad una riscoperta di chi è veramente il Signore. E la vicinanza del Battista, questa voce che grida nel deserto preparate le vie del Signore, ci diventa preziosa perché ci fa capire che la via di Dio nella nostra vita va preparata. Non possiamo dare per scontato che il Signore lo conosciamo, non possiamo dare per scontato che Gli abbiamo fatto spazio sufficiente nella nostra vita. Gesù non è uno qualsiasi. Ci dice il Battista che Lui non è il Salvatore, ma lo è Gesù. Lui non è il Figlio di Dio, ma lo è Gesù. Lui non è l'atteso dal popolo, ma lo è Gesù. Quindi, parlando di sé, in qualche modo il Battista ci parla di Gesù e della straordinarietà di Gesù, del suo essere il rivelatore del volto di Dio. Questo ci invita a guardare a Gesù con attenzione. Il tempo dell'Avvento è un tempo dell'attesa. Un'attesa che ci parla anche di ascoltare, di guardare, di non essere ciechi, come coloro che interrogavano il Battista. La grandezza di Gesù è come una luce che si fa strada nella vita delle persone. Tutti coloro che annunciano il Vangelo fanno la scoperta che ciò che dicono è molto più grande di quello che pensavano di annunciare, perché il Signore è più grande delle nostre idee, anche delle parole di chi ce lo fa conoscere. Il Battista si trovò in difficoltà a un certo punto. non capiva se Gesù corrispondesse a quello che lui si aspettava o fosse di più. Questo pensiero teniamolo nel cuore. Forse ho un'idea troppo piccola di Gesù. Forse me lo sono immaginato troppo comodo e troppo a mia misura. Riascoltiamo le sue parole, guardiamo i suoi gesti, lasciamo che provochi la nostra vita. Grazie Grazie